Amici, buona giornata e benvenuti a questo appuntamento festivo dell'Edicola del Trap in questo mercoledì 1 novembre, l'appuntamento numero 139 dell'Edicola del Trap è una sfida un po' questa diretta nel giorno festivo ma intanto diamo continuità ma soprattutto è l'occasione anche per ringraziare quanti e soprattutto poi successivamente alla diretta guardano sia su YouTube che su Facebook la trasmissione e anche i singoli video e questo è come vi ho detto più volte è un po' un esperimento informativo abbastanza nuovo un format che indubbiamente non è rivolto al grande pubblico, non ha pretese di essere YouTuber o influencer ma si tratta di un angolo informativo di caratteristiche diverse probabilmente destinato ad un pubblico di nicchia un pubblico che ama la cultura e comunque un pubblico che sta rispondendo con un aumento costante di visualizzazioni sia su Facebook che su YouTube e anche mi dicono anche televisivamente sul canale 89 del Digitale Terrestre gran parte poi degli ascolti avviene successivamente alla diretta il che significa che si comincia a capire il modo di accedere a YouTube e a Facebook e ovviamente io continuo a invitare tutti quanti voi su YouTube a premere la campanella che indica l'adesione al canale YouTube è assolutamente gratuito comporta solo il fatto che sarete avvertiti quando c'è la diretta ma è una cosa molto importante per il sistema generale di questo tipo di comunicazione by social e allora dopo tutta questa premessa andiamo a vedere in questo primo novembre che tempo ci attende in Italia Amici Trevi Meteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì che vedrà arrivare una nuova perturbazione sull'Italia arriva dal Mediterraneo occidentale ma dietro di lei sono pronti altri sistemi nuvolosi insomma periodo particolarmente variabile con perturbazioni alle volte anche molto intense quella di questo Mecquedì non sarà particolarmente cattiva ma riporterà nuvole in gran parte d'Italia come vediamo da queste immagini e riporterà anche della pioggia in particolare sulle regioni tirreniche precipitazioni comunque in questa fase non particolarmente intense e cattive quindi per questo mercoledì prevediamo un peggioramento del tempo dicevamo soprattutto sul Tirreno con queste piogge dalla Liguria fino ad arrivare alla bassa Campania e poi col passare delle ore qualche goccia potrebbe raggiungere anche l'Emilia Romagna e le Alte Marche e a fine giornata anche parte delle regioni di Nord Ovest per sapere comunque nel dettaglio come andranno le cose da voi consultate l'app di Trevi Meteo e siamo alla pagina delle notizie per quanto riguarda le novità della notte Gaza, bombe, scontri fra le case, l'attacco di terra è iniziato colpiti campi profughi Israele, base di terroristi oggi il Cairo apre Rafat ai feriti palestinesi e siamo ancora vediamo notizie da Israele, guerra giusta come se fosse mai possibile una guerra giusta cosa è legale e chi lo decide e vediamo altre notizie che una ci colpisce particolarmente bambina di sei anni stuprata in albergo a Perugia arrestato uno degli animatori i carabinieri indagano su un 33enne di origine marchigiane un ex professore, un animatore ora agli arresti domiciliari sul suo telefono trovate decine di immagini petopornografiche la piccola si trovava a Perugia in vacanza con i genitori vediamo altre cose di grande rilievo mi pare che non ce ne sono attività vulcanica in evoluzione Campli, Flegrei, Musumesi, l'allerta può salire ad Arancione e qui la situazione di instabilità a Napoli qui le piogge record a Milano è una cosa che si ripete con una continuità veramente preoccupante sulla gazzetta dello sport niente di nuovissimo lo scudetto passa dal mercato i piani di Milano, Inter, Juve e Napoli per gennaio si ricorrerà probabilmente al mercato di riparazione come si dice una volta ma come vedete non c'è non c'è un granché sotto il profilo delle novità di cronaca sportiva invece qui vedete che la TGR Marche dà il primo piano alla vicenda del 33enne un ex insegnante iesino che lavorava in una struttura ricettiva sul lago Trasimeno la denuncia dal padre della piccola e andiamo a vedere L'Ansa L'Ansa Marche che vedete riporta di un incidente a Filottrano investito da un'auto ancora un altro incidente 72enne in condizioni molto grave portato in eliambulanza ad Ancona questa eliambulanza non sta ferma un secondo ultimamente è veramente preoccupante il numero di incidenti sia sul lavoro che sulla strada che sta avvenendo nella nostra regione qui il forte vento nelle Marche ben 170 interventi dei vigili del fuoco andiamo sul Corriere Adriatico che dà invece una notizia sulla quale riflettere alluvione nelle Marche 14 avvisi di garanzia parliamo del 15 settembre dello scorso anno per omicidio colposo l'allarme è dato in ritardo tra questi 14 avvisi di garanzia ci sono 6 sindaci 2 funzionali dei vigili del fuoco e 6 della protezione civile ora indubbiamente le indagini vanno avanti vedete i 14 indagati Dario Perticaroli, Letizia Perticaroli Riccardo Pasqualini, Federica Fenesi e così via tutti gli altri anche Maurizio Ferretti direttore del Centro Unico ma vi segnalo i 6 sindaci sta diventando veramente complicato fare il sindaco vengono chiamate a delle responsabilità oggettive molte volte che sono pesantissime di questo passo veramente nessuno più vorrà fare il sindaco perché è al di fuori della capacità di controllo spesse volte questa responsabilità che poi viene addossata ai sindaci andiamo avanti sul Corriere Adriatico l'ERAC diffida l'Air Italia ripetate gli impegni e qui la questione aeroporto che tiene il banco e preoccupa molto andiamo avanti con Ancona Today secchiate d'acqua e lancio di uova contro i vicini dovete morire vi aspetto all'inferno condannato un 62enne che aveva decisamente rapporti difficili con i vicini ero io il perseguitato sono terrorizzato da allora insomma storia di ordinaria follia di vicini e comunque storie che dimostrano ancora l'odio l'intolleranza che stanno diventando padroni di questo tempo rischi ubriachi molesti tanto per stare in terma chiuso il bar agli archi ora rischia lo stop della licenza una ragazzina di 15 anni precipita dal terzo piano insomma è una serie di vicende che lasciano pensare e andiamo a finire con le cronache maceratese la notte di Halloween è passata come avete visto chi avrà avuto modo di affacciarsi alla finestra visto che le tenebre si sono diradate come sempre la notte tanto temuta da qualcuno non ha segnato la vittoria dei demoniaci ma ancora una volta è stata una notte di divertimento e per i bambini una serata all'insegno di dolcetto o scherzetto e qui invece vedete il vento forte SOS per la croce della Basilica San Nicola ma questo l'avevamo già visto ieri grandi novità come vedete non ci sono neanche su cronache maceratese che è un sito normalmente molto ben informato e arriva sempre tempestivamente Tante le cose da dire in questo primo novembre del 2023 per andare a vedere che cosa succedeva il primo novembre negli anni e nei secoli passati ad esempio una curiosità importante il nono secolo quindi nell'835 primo novembre non mille ma 835 la festa di oggi la festa cioè di tutti i santi viene spostata al primo novembre sostanzialmente era da da secoli il 13 maggio e invece fu Papa Gregorio IV a spostarla al primo novembre o nel 1295 era il primo novembre quando Dante Alighieri diventa membro del consiglio dei 36 del capitane del popolo poi andrà a finire nel 1503 e invece Giuliano della Rovere diventa Papa col nome di Giulio II diverrà uno dei più celebri pontefici del rinascimento e sarà ricordato poi come il nome Papa Guerriero pensate che epoche che tempi per la Chiesa un Papa Guerriero è il giorno il primo novembre del 1604 della prima dell'otello di William Shakespeare mentre nel 1755 è il primo novembre il giorno del drammatico terremoto di Lisbona Lisbona viene completamente distrutta 1755 da un terremoto seguito da un maremoto uccise fra le 60 e le 90 mila persone in quel terremoto poi 1897 primo novembre e questo farà felice tanti tifosi un gruppo di studenti del liceo classico Massimo D'Azeglio di Torino fonda il football club Juventus mentre l'anno dopo è sempre il primo novembre ma del 98 viene fondata l'Ascoli Calcio quindi è una primo novembre tutto in chiave bianconera Juventus e Ascoli nel 97 la Juve e nel 98 l'Ascoli è il primo novembre del 1918 invece la leggendaria impresa con Imas della marina italiana che a Pola affonda la corazzata austro-ungarica scusate Viribus Unitis ed infine andiamo avanti ancora il primo novembre degli anni passati è nel 1955 il giorno dello scoppio della guerra del Vietnam nel 1962 il primo novembre del 62 esce in Italia il primo numero di Diabolic ed infine nel 2002 viene commesso il primo novembre del 2007 l'omicidio di Perugia il famoso delitto di Meredith Kircher noto anche come il delitto di Perugia o delitto di Via della Pergola o un omicidio ancora sostanzialmente irrisolto come sapete è stato condannato per concorso in omicidio Rudy Gede ma non ci sono altri responsabili anche per una serie di errori di errori nelle indagini piuttosto gravi di ritardi di pressappochismo nelle indagini che hanno inquinato il quadro complessivo della scena del crimine ne parleremo di questo ancora di questo omicidio con il nostro punto di riferimento Alvaro Fiorucci che anche lui è stato capoledatore della sede Rai di Perugia ma grande nerista grande personaggio che ha a lungo studiato questo caso e vi ricordo era il primo novembre del 2007 allora adesso andiamo a cambiare argomento così prima di concludere vi voglio far riflettere su alcune cose l'altro giorno sul TG1 l'amica e collega Giorgia Cardinaletti ha presentato l'intelligenza artificiale che fa parlare dire a qualunque persona dopo averne acquisito le immagini addirittura curando il sistema labiale il sincrono con il ragale qualunque cosa e qualunque frase in qualunque lingua questo crea una serie di inquietanti interrogativi io vi faccio vedere quello che ha realizzato il mio maestro informatico quello che mi ha introdotto a questo mondo e cioè Bevinetto l'avevamo già visto in parte ma guardate adesso questo annunciatore che è del tutto inventato in questo caso cioè l'intelligenza artificiale ha riprodotto una persona che non c'è e gli fa la fa parlare sentite ritorna la trasmissione l'edicola del trap condotta dal famoso ed inossidabile Giancarlo Trapanese per questo motivo presto chiuderà anche la nostra redazione non riusciamo a stargli dietro ecco e questo è chiaramente uno degli aspetti ora scherzando qualche tempo fa Bevinetto aveva persino preso una mia favola trasmessa a TV RS e si era divertito con la mia voce a doppiarla automaticamente in varie lingue questo era uno scherzo quindi non è curato perfettamente il labiale ma guardate che cosa può fare l'intelligenza artificiale voilà c'è parti asseyez-vous tous même sur le canapé vous savez que je vous vois et nous sommes prêts a vous raconter cette histoire una historia real che occorriu en Ancuna hace muchos años en una casa preciosa ecco avete visto di cosa è capace l'intelligenza artificiale soltanto così scherzando a casa con quello che abbiamo pensate cosa invece può fare quando ci sono software computer diversi e con l'intelligenza artificiale che cosa si potrebbe fare e allora chiudiamo sempre con invece che con la lettura oggi che è festa chiudiamo con la musica un pezzo straordinario scritto e suonato dal nostro Paolo Marconi che dimostra anche oltre che essere un sonnettista di grande livello anche di essere un compositore ed un esecutore straordinario vediamo questo pezzo un esecutore Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.